Signor Sindaco, buongiorno. Manuel Antonelli, il suo primo video su Varese Noi. Le piace come nome? Secondo lei? Cosa avrebbe preferito? Allora, ho visto che dentro nelle rubriche c'è Busto Noi. Ecco, magari preferivo schiamarsi Busto Noi e nelle sottopubriche su Varese Noi. Va bene, allora ci impegniamo per questo. Senta, signor Sindaco, è quasi a metà mandato. Cominciamo già a ricordare un appuntamento che sarà fra poche settimane. A gennaio voi farete un'occasione un po' particolare. Sì, innanzitutto gli auguri per questa nuova iniziativa, ci mancherebbe. Sono contento quando c'è un organo di informazione in più. E poi sì, abbiamo questa iniziativa che l'ho fatta a due anni e mezzo al mandato, proprio per far vedere tutte le cose che abbiamo realizzato a Busto e anche per permettere a chi ci vuole criticare per le cose che non abbiamo fatto o che pensavamo facessimo, facciamo questa serata al Teatro Sociale dove cercheremo di riassumere i due anni e mezzo al mandato. Ok, ultimissima cosa, la Pro in Serie C, 100 anni, hanno bellissimo. Il Varese, purtroppo, noi siamo sportivi, è una situazione un po' diversa, però speriamo un giorno di tornare a avere un derby. Beh sì, alla fine i derby sono sempre belli, ma poi dal punto di vista sportivo si augura sempre il bene a tutti. A Busto, grazie al cielo, grazie alla Patrizia Testa, direi, la popata quest'anno è tornata tra i professionisti. Siamo felicissimi, speriamo che continuino in questo campionato. Come tutte le altre squadre, se mi permettete, anche in altri ambiti sportivi, noi abbiamo la fortuna di avere sia la Yamamai che la BPM di Serie A tutte e due e quindi auguro a tutti un grande risultato sportivo per quest'anno. Grazie, buona giornata. Grazie a lei.